Siamo giocati alla Finale World 2 nel 2019, quindi già vediamo come l'arena si sente. E credo che è un sogno di natale di giocare World Champs a casa. Non vedo l'ora di giocare e di vedere più persone possibili, tifosi, familiari, amici assistere alle nostre partite. Speriamo di dare un grande spettacolo. Abbiamo molti persone, molti fan, molti famigli e amici. Roma è Roma, quindi giocare in un posto come il fuori italico, col pubblico di casa, è una cosa speciale. Gli giocare a casa ti dà 2-3 punti, magari per match, quindi spero che sia vero e che succeda. Mi chiamo Adrian Carambula, lavoro del team Italy. Sono Enrico Rossi, faccio parte del team Italia. E vedrai te in Roma. Ci vediamo a Roma. Ciao.